Siamo all'appuntamento con l'informazione su Teletruria, ben trovati. Apriamo con l'economia, progetti ed azioni per le imprese, le società, economia e lavoro. Questo è il tema che ha caratterizzato il forum annuale organizzato dal gruppo nazionale terziario donna ConfCommercio che si è svolto ad Arezzo. Intervenuto all'incontro anche Carlo Sangalli, presidente nazionale ConfCommercio Imprese per l'Italia. Al forum annuale organizzato dal gruppo nazionale terziario donna che si è svolto ad Arezzo, ha preso parte anche Carlo Sangalli, presidente nazionale di ConfCommercio Imprese per l'Italia, che ha rivolto la sua attenzione alla tragedia che ha colpito l'Emilia Romagna. Rivolgere certamente anche come ConfCommercio e come terziario donna tutta la nostra solidarietà e la vicinanza alla gente straordinaria dell'Emilia Romagna è colpita da questa calamità, è molto importante. Noi come ConfCommercio attraverso anche la nostra fondazione Orlando faremo fine in fondo alla nostra parte e alcune attività resilienti stanno già partendo, sono attività che fanno parte del terziario di mercato dove la presenza femminile sia in termini di occupazione che in termini di imprenditoria è molto rilevante e significativa. A fare il punto sul forum di terziario donna ConfCommercio è stata la presidente Anna Lapini. È una mattinata di confronto, di idee, di progettazioni venute dopo una giornata di lavoro dove abbiamo sentito tante proposte, tante idee e tanti progetti che si dovranno trasformare in azioni. Io sono molto contenta di questo bilancio, sono venuti dei grandi stimoli, la imprenditoria femminile è donna, il mondo del terziario sempre più ha una presenza massiccia dell'impresa. Abbiamo tutti compreso che l'imprenditoria femminile fa bene a tutta la società. 20.000 euro confermiamo risorse a favore di enti, associazioni e fondazioni con sede nel comune di Arezzo comunque senza scopo di lucro per progetti contro la violenza di genere. Stiamo portando avanti un lavoro capillare, un'opera di sensibilizzazione e di prevenzione educativa, in particolare verso le giovani generazioni, potendo contare sull'alleanza con il terzo settore, un tessuto che in città, come è noto, si distingue per professionalità, competenza e spirito solidale. Commenta così l'assessore Giovanna Carlettini la delibera adottata dalla Giunta di Arezzo su sua proposta e che si tradurrà in attività da svolgersi nell'arco temporale compreso tra il 1 settembre e il 31 dicembre. Noi con impegno e fermezza ce la stiamo mettendo tutta dall'inizio del mandato, dice Carlettini. E non si è normalizzata la situazione del traffico sulla E45, limitazioni infatti permangono verso la Romagna. I limiti alla circolazione sull'E45 rimangono in vigore fino a lunedì 29 maggio. Fino a quella data, la modifica alla circolazione sull'E45 è valida per i mezzi con massa superiore alle 3 tonnellate e mezzo, ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza, che viaggiano in direzione Ravenna nel tratto incluso tra gli svincoli di Bagno di Romagna e Sarsina. A Sansepolcro è invece attivo il filtraggio dei mezzi pesanti con lunga percorrenza. I mezzi pesanti in transito sull'E45 in direzione Cesena-Ravenna, che devono raggiungere località a nord di Bagno di Romagna, sono diviati con uscito obbligatorio allo svincolo di Sansepolcro, con prosecuzione sulla 73 in direzione Arezzo, per poi utilizzare l'autostrada del Sole. Inoltre, nell'ambito delle operazioni legate alla gestione della forte ondata di maltempo che ha interessato l'Emilia-Romagna, è stata disposta fino a lunedì il divieto di mezzi pesanti anche sulla regionale 71 Umbro-Casentinese, nel tratto compreso tra San Piero in Bagno e Quarto. Dopo il fermo di tre anni a causa del Covid, tornano i cagnoloni dell'Associazione Gaia al Centro Oncologico Calcit del San Donato. Tutti i motivi per essere felici del ritorno della pet therapy. Finalmente, dopo tre anni, se non sbaglio, riparte la pet therapy al Centro Oncologico. Le ragazze di Gaia dicono che c'è voluto proprio il suo intervento. Sì, intanto la pandemia non è di pesa da noi e ovviamente abbiamo dovuto interrompere l'attività. Poi a settembre dell'anno scorso abbiamo chiesto di ricominciare, ci sono state un po' come al solito delle lungaggini burocratiche e però ad oggi si comincia questa attività. Oggi si presenta, è un'attività che era già presente al Centro Oncologico dal 2007, molto gradita da pazienti, perciò siamo molto contenti. Qual è l'impatto che un animale ha destrato proprio nella pet therapy ha su un paziente oncologico? Dunque, qua si parla di ansia e depressione. Il cane, a parte tutte le ricerche scientifiche che sono state fatte negli anni, ancora in ambito oncologico ce ne sono molto poche, però il cane riesce a rilassare e funge da distrattore. È una terapia non farmacologica ricreativa e terapeutica. Gli animali rappresentano una parte fondamentale della nostra vita. I cani hanno, peraltro, delle sensibilità particolari che si adeguano molto, che è come se capissero quando uno di noi è in difficoltà, ti stanno più vicino. È pazzesco, credo che ci sia un legame magico tra la specie umana e la specie dei cani. Sì, proprio sull'umore, nel senso che possono aiutare ad avere un approccio più ottimistico, a sollevare dai pensieri negativi e un attimo di, tra virgolette, distrazione. Ma chi alleggerisce appunto una situazione impegnativa, ecco. Come un po' anche poi quando sono a casa, gli animali domestici fanno compagnia, in qualche modo ci aiutano. Le rette del Serristori sono in linea con quelle delle strutture private a retine. La replica all'attacco del PD di Castiglion Fiorentino. Serristori e comune di Castiglion Fiorentino non ci stanno. Replicano all'attacco del Partito Democratico e rilanciano anche. Il conto patrimoniale è completamente ininfluente ai fini di generare un pareggio di bilancio. Se c'è un utile, resta un utile. Se c'è una perdita, resta una perdita. Ed ora i numeri? I numeri veri sono che nel 2014 abbiamo ereditato una situazione a dir poco preoccupante con una perdita di 405 mila euro, di cui 228 riferiti soltanto all'ora casa di riposo, un'ordinanza di chiusura da parte dei carabinieri del NAS. Nonostante un investimento importante di oltre 700 mila euro che al taglio del nastro non rispettava la normativa. Concettoni rivendica di aver rimesso in sesto i conti dal 2014 e rispedisce al mittente le accuse. Gli aumenti attuali, invece, dice ancora, sono in linea con il resto del mondo aretino convenzionato con il servizio sanitario. Il vero problema sono invece le quote sanitarie e gli aiuti da parte della regione. che erano ferme da 11 anni e che sono state riviste da gennaio di quest'anno, ma in una misura che non riesce a contenere comunque cose, soprattutto in una misura che non riesce a ragguagliare le maggiori spese alle quali le nostre strutture sanitarie purtroppo sono tenute ad adeguarsi. L'aumento che vi è stato è soltanto dello 0,68 perché dalla quota sanitaria prevista nella misura di 53,32 si è passati da gennaio a 54 euro. La fanfara della scuola maresciale di Firenze ha portato la musica dell'arma dei carabinieri a Bibbiena per festeggiare 20 anni di vicinanza alla popolazione del Casentino. A Bibbiena si sono celebrati 20 anni della caserma dei carabinieri, 20 anni di vicinanza dell'arma ai cittadini, una giornata di festa promossa dall'arma dei carabinieri insieme all'amministrazione comunale che ha voluto ricordare le gesta del conterraneo Angelo Mascalchi, medaglia d'argento al valore militare a cui è intitolata la caserma, ma soprattutto, ha detto il sindaco Filippo Vagnoli, ringraziamo l'arma e il suo impegno accanto alla popolazione casentinese. Questo è un presidio fondamentale per il nostro territorio e un punto di riferimento per i suoi cittadini, una luce per tutte le istituzioni. Il comandante della compagnia dei carabinieri di Bibbiena, Giuseppe Barbato, ha commentato abbiamo desiderato dare giusta rilevanza al ventennale di intitolazione della sede del comando compagnia con un ringraziamento in musica, con la fanfara della Scuola Maresciali di Firenze, con pagine musicali d'eccellenza, insieme alla banda dell'arma dei carabinieri, per la popolazione casentinese che abbiamo l'onore di servire come compagnia dal 1975, anche se la presenza dell'arma in Bibbiena risale certamente a tempi ben più remoti. Attualmente dalla compagnia dipendono un nucleo operativo e radiomobile con centrale operativa unica centrale del territorio per le forze di polizia e otto stazioni per i dieci comuni del Casentino. Festeggiare la sua apertura al presidio della legalità, ha continuato Filippo Vagnoli, ci impone una riflessione su fronti diversi e altrettanto importanti, il tema della legalità, quello del presidio del territorio e della prevenzione, oltre che il senso del dovere. Due mostre in Spagna, una in arrivo a Fabriano, prima ad Arezzo, continua il successo dell'artista Vincenzo Nasuto. Fular come piccole opere d'arte, una mostra, anzi due in Spagna, è tanto successo, lei reduce proprio da questa trasferta, poi presto ci sarà anche una cosa qui in Italia, qui vicino a Fabriano, insomma ci racconta un po' l'esperienza spagnola. Sono stato invitato in Spagna dal Museo del Mar e a Caudete a inaugurare due mostre con i miei lavori per portare l'arte classica italiana in giro per il mondo. A novembre ero stato in Germania e la mia idea è quella di rappresentare l'arte classica in chiave moderna attraverso dei Fular che non sono moda ma sono delle piccole opere d'arte, in alcuni casi in piccoli multipli, quindi pezzi quasi sempre unici. Le faccio un'altra domanda, come è nata però l'idea di trasmettere l'arte con un Fular? Questo che vedete è la linea fashion, però invece in questo caso come è nata l'idea? Dipingo dall'età di otto anni e fino a cinque anni fa collaboravo con delle aziende di moda nella zona di Prato e Firenze, a un certo punto non ce la facevo più e quindi ho deciso di unire le mie due grandi passioni che sono l'arte e la moda per una cosa mia e ho coniugato ed è uscito fuori la sciarpa d'artista. Prima di chiudere uno sguardo a quanto succederà questa sera dopo il TG Newsline che oggi si occupa dell'anteprima del film Il Re delle Indie svoltasi presso il Cinema Eden di Arezzo, a seguito 9 e 10 spettacolo con un ampio spazio dedicato ad officine social movie e poi la serata proseguirà con Ben Godi. Tema della puntata il progetto scuola promosso da Col di Retti Arezzo alle 23 il consueto appuntamento con Alessio. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi e arrivederci.